ragazzi buonasera mi segna 10.000 iscritti quindi 10.000 iscritti sono tantissimi io volevo ringraziare eh tutti i ragazzi Effenberg Alessandro G l'avvocato Pier anche l'avvocato Michele Michelangelo Seven Up il grandissimo Seven Up che spesso cercano di portarci via ma lui ormai eh lui fa parte come me di Chiesonerati lui è uno dei fondatori del canale di Chiesonerati insieme a me quindi grazie a tutti i ragazzi non sono bravo nei ringraziamenti l'ho sempre detto però vi volevo ringraziare davvero tanto perché eh questo risultato è anche vostro non è solamente mio 10.000 iscritti eh 7.000 sette milioni di visual è un risultato di tutti di Effenberg e di Alessandro G di Seven Up dello stesso avvocato Michele di Michelangelo di tutti ragazzi grazie davvero grazie davvero senza di voi non ci sarei nemmeno arrivato molto probabilmente quindi io vi ringrazio e devo fare un video anche se è un'ora un po' anomala per me perché eh c'è questo esposto sui conti dell'Inter IPM di Milano e si attende il fascicolo sulle plusvalenze io quello vi posso dire voi lo sapete no che noi siamo sempre stati molto duri sulla gestione precedente poi alla fine è successo quello che avevamo sempre previsto che lo sia che a Zang nessuno avrebbe né rifinanziato né riscadenziato eh a differenza di quelli che avevano lo scopo mondiale di Pinco però ragazzi bisogna dire una cosa cioè quello che va detto va detto non solo in difesa dell'Inter va detto soprattutto perché è giusto dirlo chiedo scusa per il giro di parole per valutare un giocatore cioè non c'è un metro preciso per valutare un giocatore cioè poi riguardo i termini di continuità aziendale laddove loro continuano a controbattere cioè lo scorso anno è stata certificata da un revisore contabile di livello internazionale la continuità aziendale dell'Inter in cassa c'erano i fondi necessari per iscriversi e su questo non ci piove non c'è dubbio ehm questo esposto per come la vedo io ma per come la vedono anche i ragazzi è chiaramente un tentativo malzano maccheronico di far passare una situazione per il legale ma che il legale non lo è mai stata perché noi lo abbiamo sempre detto e voi lo sapete benissimo pur non essendo d'accordo con la gestione precedente che l'Inter si muoveva in totale legalità e questo ce l'avete sempre sentito dire ripeto pur essendo in disaccordo con Zhang e quella gestione che ti porta solamente eh a fare eh a fare un frontale con prestito paga debiti ma non è più così oggi ma nonostante tutto nella gestione precedente non c'è stato niente di legale quindi la differenza poi ragazzi tra le plus valenze della Juventus e quelle dell'Inter è molto semplice quali le sono le differenze sono e su alcune di quelle della Juve sono stati certificati degli accordi mentre su quelle dell'Inter no quindi le stanno provando tutte io capisco benissimo che a qualcuno brucia il sedere e capisco benissimo che eh a qualche presidente che magari negli ultimi anni ha investito e ha visto Zhang fare debito paga debito possa aver dato noia ma eh le leggi le norme ce lo hanno permesso non è colpa dell'Inter l'Inter si è sempre mossa in totale legalità e voi vi attaccate al Kaiser soprattutto a quello lì che ha capelli saltati in padella ma cosa mi rompi oglioni capito quello lì che c'è il capello saltati quello lì che c'è il capello mantecato come ha detto ma cosa mi rompi oglioni noi siamo a posto fate pure tutti gli esposti che volete noi siamo in regola e finalmente siamo sani abbiamo tutte le garanzie per per poter gestire lo stadio per poter fare un acquisto è finita quella storia lì ora c'è progettazione c'è comunicazione c'è operatività cose che prima non c'erano ma ripeto non nonostante tutto in quella gestione diciamo maccheronica precedente con debito paga prestito ci siamo mossi sempre nella totale legalità ragazzi continuiamo ad iscriverci al canale attiviamo la campanellina perché noi vogliamo arrivare più su ciao inter grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti